segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te il governo meloni santanchè ma se vedremo come si dice sempre la giustizia farà soccorso se sono cose che verranno appurate stanno così come gli accusatori giornalistici dicono sì che certo che si deve dimettere io sinceramente da tutto questo sono abbastanza libito cioè mi fa abbastanza impressione il signore lee batman risolve i problemi dello stato forse dovrebbe avere e no non fa tanto ridere sa perché io non vado a chiedere alle persone tra l'altro persone a cui mi ha detto lei ha fatto tramite 9 avvocati 21 richieste poi gli va a offrire di fare altri affari o gli dice mi dia i soldi così mi levo dalle palle cioè non è proprio un bellissimo spettacolo ma per quanto mi riguarda ma lei fa quello che vuole è il suo diritto se basta che rispetti la legge io quando sento vorrei sapere anche di questo fondo neg ma come elettore cittadino mi interessa sapere cosa c'è lì dentro quando sento parlare di dubai delle bahamas un po magari non conosco bene un po mi inquieto perché chiediamolo mi inquieto da visto che si fanno tanti ragionamenti la sovranità sulla sovranità zeno non sa nulla del conto del contone del lui non lo sa lo dice anche lo sa e nessuno di noi adesso lo sa però sappiamo